Si è tenuta presso l'hotel nazionale di piazza Montecitoria a Roma la conferenza di presentazione della proposta di legge sul testo unico delle leggi regionali in materia di informazione e comunicazione, licenziata lo scorso 17 novembre dalla Commissione di Vigilanza sul pluralismo dell'informazione del Consiglio regionale del Lazio. Grazie a questa importante norma, dichiarato il Consigliere regionale del PDL Giancarlo Miele, primo firmatario della proposta di legge, il Lazio riuscirà a incentivare concretamente tutti quei giovani addetti al settore che vogliono affiancarsi nel mondo della comunicazione. Un testo innovativo, il primo testo unico sulla comunicazione in Italia, la regione Lazio si propone di essere la prima a livello nazionale che va a regolamentare in modo organico questa materia e lo fa dando una grande attenzione alla comunicazione istituzionale, attuando la legge 150 e puntando a divenire veramente una regione, un'istituzione trasparente con i cittadini e pronta a comunicare e a rendere conoscibili veramente per tutti quelle che sono le sue iniziative ma anche quella che è tutta l'architettura istituzionale dell'ente regione Lazio. In questo modo, ha concluso Miele, il Lazio si è nuovamente confermato una regione all'avanguardia, compiendo un ulteriore passo in avanti in un settore di primaria importanza come quello della comunicazione. Il rispetto della dignità della persona e il contrasto a tutte le forme di discriminazione è un filo rosso che tesse la trama del testo unico sulla comunicazione, ha spiegato la consigliere regionale del PDL, Isabella Rauti. È una novità estremamente importante, il testo è stato approvato in commissione con un impegno bipartisan, dovrà arrivare in aula e noi ci auguriamo una scelera approvazione. Nell'ambito di questo testo unico, così innovativo, noi abbiamo introdotto in tutti i suoi articoli, che sono 37, un filo rosso che riguarda le pari opportunità. Questo partendo dal presupposto intanto della funzione sociale ed educativa che tutti i media svolgono e il secondo punto abbiamo introdotto un rispetto delle pari opportunità intese in senso estensivo, ovvero in termini di tutela antidiscriminatoria. Quindi non soltanto parità di genere, quindi parità tra uomo e donna, ma soprattutto parità a tutti quei gruppi considerati a rischio di discriminazione e quindi una particolare attenzione per la dignità e per il rispetto della persona umana. Ogni articolo viene interpretato anche dal punto di vista della rappresentanza di genere, penso alla norma della par condicio nella quale avremmo introdotto un rispetto della parità tra uomo e donna, la parità di accesso, il sostegno a quelle emittenti e anche a quelle associazioni senza scopo di lucro che si impegnano a non diffondere messaggi, soprattutto penso alle pubblicità che siano lesivi della dignità femminile. La regione accerterà che i soggetti beneficiali del sostegno all'editoria si impegnano a non pubblicare inserzioni pubblicitarie che ledono e che offendono la dignità umana o inducono la violenza sulle donne, ha aggiunto la Rauti. Sempre rispetto alla presentazione di questo testo in materia di comunicazione e informazione, a parlare l'assessore Zezza. Grazie. Grazie. Grazie.